È un teatrino ridicolo secondo i grillini quello che sta andando in scena in questi giorni sull'ospedale unico. In campagna elettorale, ricordano, il sindaco di Fano aveva assicurato che si sarebbe battuto in difesa del Santa Croce. Promesse fatte e ricordate anche in consiglio comunale una volta eletto. Poi però una dichiarazione del vice sindaco Marchegiani, segretario del PD Fanese, avrebbe ribaltato le carte in tavola. Tutto questo problema, il finto problema della localizzazione è stato creato ad arte per depistare l'opinione pubblica. Insomma, Marchegiani ha detto che Fano avrà probabilmente un pollo completamente privato tipo Cotignola e l'ospedale unico si farà quindi a Pesaro. Ricordiamo che comunque anche l'ospedale unico sarà privato perché i soldi pubblici non ci sono, quindi tramite il project financing o il contratto di disponibilità sempre un privato che finanzierà questa struttura. Quindi l'idea del PD è quella di privatizzare la sanità e secondo noi questo progetto è veramente disastroso. Noi andiamo a curarci come cittadini fanesi ma anche marchigiani in generale in Emilia Romagna e lì la struttura della sanità è completamente diversa da quella che ci vogliono proporre qui. Ci chiediamo perché si deve continuare ad andare avanti con questo progetto nefasto che servirebbe solo per agevolare delle lobby di costruttori e dei professionisti. In difesa del primo cittadino Massimo Seri è intervenuto oggi il partito socialista. Secondo il segretario Mirko Pagnetti era da vent'anni che un sindaco di Fano non batteva i pugni sul tavolo. D'accordo con lui anche l'assessore all'ambiente Samuele Mascarin che reputa infondate le critiche dell'opposizione comprendendo quindi anche quelle avanzate dai consiglieri di progetto Fano e Udc. Il sindaco Seri e questa amministrazione si trovano a gestire un'eredità pesantissima che è stata lasciata da chi ha governato questa città negli ultimi dieci anni. Un'eredità fatta di scelte e soprattutto di non scelte sul campo della sanità. E poi perché oggettivamente il sindaco Seri dopo molti anni è il primo sindaco che a Pesaro, a Dancona, nei tavoli che contano ha iniziato finalmente a sbattere i pugni per difendere i diritti e i bisogni della nostra comunità. Peraltro a me piacerebbe ricordare che su un tema come la sanità forse sarebbe il caso di trovare una solidarietà profonda tra città e istituzioni e all'interno delle istituzioni anche tra forze politiche. L'opzione che il sindaco Seri ha messo in campo, quella cioè anche di un sito, quello di Chiaruccia, penso che debba essere sostenuta da tutta la città invece di fare dietrologia. Io mi auguro che dopo questa caduta di stile ci sia la capacità da parte di tutta l'opposizione di potersi ritrovare a fare una battaglia comune per la sanità e per la città di Fano.